Ben ritrovati amiche e amici dell'Atletica. All'Atlas Arena di Lotz in Polonia si è rivisto all'opera l'oro olimpico Marcel Jacobs. Dopo l'esordio vincente di Berlino si è ripetuto, aggiudicandoci 60 metri, in 6,49 a soli due centesimi dal primato italiano. All'esordio in questo prestigioso contesto, tappa silver delle World Indoor Tour, c'era anche la nostra Aurora Berton, Libertas Friul Palmanova, che si è classificata a quinta sui 60 metri in 7,29, staccando lo standard per i mondiali indoor di Belgrado. Con questa prestazione è diventata la settima italiana di sempre. Missione compiuta dunque per la ragazza allenata da Lucia Piero Bon, che dopo il 7,31 di sabato scorso ad Ancona, a un centesimo dal minimo per i mondiali in Serbia, non poteva certo lasciarsi sfuggire l'occasione per realizzare il sogno. In questa gara l'altra azzurra, Zainab Dosso, fiamme azzurre, ha eguagliato con 7,19 il record italiano di Marisa Masullo, risalente al 1983, giungendo seconda alle spalle della polacca Eva Svoboda, che con 7 secondi netti ha firmato la migliore prestazione mondiale dell'anno. Il velocista emiliano della Triveneto Trieste, Freider Fornasari, dopo il record regionale assoluto dei 60, si mette in tasca anche quello dei 200, a Topeca, in Cansans, con il tempo di 21,67. Il record apparteneva a Paolo Messina dal 7 febbraio del 2021, quando a Ancona aveva vinto il titolo nazionale junior con 21 secondi e 74. A cavallo di una stagione all'altra, delle gare su pista, durante i freddi mesi invernali, vanno in scena le corse campestri, cross country stando all'eccezione inglese, laddove questa disciplina dell'atletica leggera è nata. La società agricola Borgo Sant'Andrea di Brazzacco, che si occupa di tutt'altro durante l'anno, ha spalancato le porte della sua azienda ai crossisti, che qui, tra filari di vigneti e impegnativi saliscendi, si sono sfidati nella seconda prova dei campionati di società. Sandro Pirroide, attore dell'iniziativa a nome e per conto dell'atletica Malignani Libertasurine, di cui è tecnico del Mezzofondo, ha potuto contare anche sulla collaborazione della locale prologo gruppo giovanile Brazzacco, che ha messo a disposizione il parco, dotato di tutte le strutture, che consentono di organizzare numerosi eventi nel corso dell'anno. La prima edizione del cross di Santa Margherita ha sostanzialmente confermato quello che Casarsa aveva anticipato a metà gennaio. Gli allievi Lorenzo Zanchetta e Martina McDowell, Bruniera Friuli in Tagli, gli junior Cesare Cagliani, Bruniera Friuli in Tagli, ed Elisa Gortan, Aldomoro Paluzza. Le promesse Fabio Vicic, Trieste Atletica, e Ilaria Bruno, Bruniera Friuli in Tagli, e i senior Erika Franzolini, Maratonina Udinese, e Abdullah Bamussa, Bruniera Friuli in Tagli, hanno vinto bene questa vernice su un terreno inesplorato in preparazione dei campionati italiani, che di qui a un mese andranno in scena a Sgonico. Dopo le prime schermaglie, Bamussa ha preso il volo con il compagno di squadra Osvaldo Zanella. Il loro vantaggio sul solido e efficace Tobia Beltrame, Trieste Atletica, non è mai stato tale da rendere scontato l'epilogo. Ma tanto è bastato Bamussa per chiudere in scioltezza dopo aver bruscamente lasciato sul posto nell'ultima tornata il compagno di fuga. 32-52 il tempo del vincitore, 33-6 per Zanella e 33-21 per Tobia Beltrame. Ottimo quarto e primo delle promesse, Fabio Vicic, Trieste Atletica, in 33-35 davanti al pari categoria, Mascia Costa, Bruniera, Friuli in Tagli. Buon sesto posto su un tracciato non certamente adatto alle sue caratteristiche tecniche, il campione italiano 2019-2005 Matteo Spanu Malignani Libertas, presente per onor di firma al supporto del suo team. Sentiamo i protagonisti della gara. Sono contento veramente di aver fatto una buona gara oggi. La gamba girava abbastanza bene, percorso molto duro, tanti cambi di ritmo. Nonostante il turno di notte sono contento, ho dormito solo tre ore. Adesso vado avanti con la preparazione in vista agli assoluti di Trieste. Speriamo di fare una bella prestazione, quello è l'obiettivo di adesso. Dopo farò prima la mezza, ma la farò tranquilla per la società. Ringrazio il mio allenatore Ezio Rover che mi aiuta sempre sui programmi e sono soddisfatto. Allora, gara dura, molto dura. Non ero per niente abituato a fare salite così pesanti. Però sono contento perché rispetto all'ultima campestra di 10 km sono migliorato tanto nonostante le salite. Non alleno, di solito non alleno campestri, però in vista degli italiani di Trieste non è male. Diciamo che è una buona partenza. Per il resto io alleno, di solito alleno la pista, quindi outdoor soprattutto. Quindi in vista dei 1.500 soprattutto è buono per il fiato, insomma. Però bene, bella giornata, quindi sono divertito nonostante tutto. No, una bella gara, ero lì per non venire, devo dire la verità, però alla fine la scelta giusta l'ho fatta. Ho fatto un gran bel allenamento per le condizioni in cui ero, percorso durissimo come preannunciato. Le salite ti tagliavano le gambe, a un certo punto era quasi una corsa in montagna. Però sono felice, dai, prossima settimana si torna a lavorare. Speriamo di non infortunarci più, però sono felice. Sette chilometri per junior maschi e promesse senior donne. Cesare Cagliani, bronzo sui 3.000 siepi agli europei under 20 di Tallin 2021, ha dato spettacolo sull'undolato anello di gara e ha concluso in solitaria la sua galoppata in 23.51. Piazza d'onore a debita distanza per Leonardo Fontanot, Trieste Atletica 24.41. E terzo posto per il suo compagno di squadra Federico Cernaz in 24.56. Pronostico rispettato anche tra le donne. Ilaria Bruno ha dominato la prova concludendola in 25.44, dove la piacevole sorpresa è stata Erika Franzolini, neoacquisto della maratonina udinese, che ha staccato un argento che vale oro, se consideriamo che il cross, come per Spanu del resto, non è il suo terreno di caccia preferito. 27.18 per l'ex ottocentista, capace di 2 minuti 4.84 su questa distanza, quando otto anni fa calcava con costanza le piste italiane. Terza piazza per Arianna Del Pino, Malignani-Libertasurine in 27.46. Quarta e quinta posizione per due rappresentanti dei club alabardati, Caterina Stenta, Trieste Atletica, e Giulia Menegale, Cus Trieste. Ma sentiamo la Franzolini all'arrivo. Il percorso è bellissimo, secondo me, a parte una bella giornata, ma il percorso è molto bello. Parlo per la categoria femminile. Le donne hanno fatto tre giri piccoli e un giro grande, dove c'era appunto una bella salita. Io personalmente ho trovato più difficili i giri piccoli, perché era un continuo sali-scendi, diciamo, c'erano le curve in salita, poi c'era la discesa. Invece la salita, lo strappo proprio, vero e proprio, io mi sono trovata bene, perché poi dopo c'era subito tutta la discesa. Sono abbastanza contenta della gara, sto preparando una mezza adesso. Non ho definito bene quale, comunque nei prossimi mesi, per cui il chilometraggio, insomma, ce l'ho sulle gambe, mi mancano magari un po' ritmi più veloci, però insomma, sono contenta, ecco. La prima gara della mattinata ha allineato al Via le allieve sulla distanza di 4 km. Martina McDowell, Bruniera Friuli-Intagli, non perde un colpo e ha messo in fila le poche partecipanti, 10 in tutto, di questa categoria. Con il tempo di 16.48 ha regolato Jessica Vettor, atletica viano, 17.21, e Camilla Miatto, Bruniera Friuli-Intagli, 17.33. Subito dopo è toccato ad allievi e junior donne, per un impegno lungo 5 km. Lorenzo Zanchetta, uno dei tanti giovanotti dell'atletica Bruniera Friuli-Intagli, ha dominato la Manx maschile, portandola a termine in 17.36. Thomas Cappagna ha portato a casa la Piazza d'Onore in 18.3 e Francesco Micolauci, l'ultima buona per il podio, in 18.9. Entrambi sono portacolori della Trieste atletica sotto le cure di Roberto Furlanic. Più incerta invece la prova rosa, dove Elisa Gortan Aldomoro-Paluzza si è sbarazzata delle rivali solo nel finale di gara, dopo aver condotto caparbiamente in testa dall'inizio alla fine, malgrado i suggerimenti del tecnico Lorenzo della Pietra, che le consigliava di stare coperta o di andare via lasciando la scomoda compagnia. Ha vinto in 20.45, precedendo Elisa Visintin, Malignani-Liberta-Sudine, 20.52, e Margherita Mucin, atletica a Gorizia, 21.16. Poco più di un centinaio i crossisti che hanno dato vita a questa seconda e ultima prova dei campionati di società, in una mattinata dal freddo pungente che si è riscaldata un po' con l'approssimarsi del mezzogiorno. Le premiazioni si sono svolte alla presenza del sindaco di Moruzzo, Albina Montagnese, accompagnata dal consigliere Davide Giuliani, mentre a rappresentare la FIDAL regionale c'era il presidente Massimo Di Giorgio e per il centro provinciale Libertas-Sudine, il vice Venanzio Ortis. Un breve commento finale del presidente dell'atletica Malignani-Liberta. Ascoltiamolo. Si è svolta oggi qui nella magnifica cornice di Santa Margherita del Gruagno la seconda prova dei campionati assoluti di corsa campestre di cross. È stata una bellissima giornata, abbiamo anche degli ottimi risultati per quello che riguarda gli atleti, devo anche ringraziare chi ci ha ospitato la Proloco qui di Brazzacco e anche l'azienda Borgo Sant'Andrea che ci ha ospitato, tutto il percorso si è svolto su terreni di sua proprietà e noi ci riproponiamo come società di rifare nel prossimo anno una gara proprio come quella di quest'anno perché ha avuto un'ottima riuscita. Ostacoli da ricordare alla prima giornata dei campionati regionali indoor allievi con relative gare di contorno della scorsa settimana. Federico Rossi, 25enne del Malignani-Liberta, corre i 60 ostacoli in 8,26 in batteria e sale di un posto nelle liste all-time regionali assolute mentre l'allievo dell'Atletica Gorizia, Andrea D'Adalt, continua a migliorare e si porta a 8,11 secondi, naturalmente con le barriere da 91 e guadagna anche lui un posto tra i grandi di tutti i tempi. Al femminile, due centesimi di miglioramento per l'allieva della Triveneto Chiara Grio che scende a 8,73 e si conferma una delle migliori specialiste in Italia. I titoli allievi dei concorsi vanno a Veronica Pagnucco della Libertas Casarsa con 1,49 di alto, ad Andrea Moras dell'Atletica Bruniera Friulintagli con 6,20 di lungo e a Sara Avancini dell'Atletica Aviano con 5,36 di lungo femminile. Da ricordare infine i 4,25 metri di asta di Elisa Molinarolo fresca di passaggio alle fiamme Europadova dall'Atletica Riviera delle Brenta. Ci fermiamo qui anche per stasera, grazie per la solita e cordiale attenzione e arrivederci a lunedì prossimo. Gesù 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 M, I, M, I, BB BB, 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 BB